50 anni e sembra ieri. È stato questo il titolo della bella e meritoria cerimonia di commemorazione che la Federazione di Atletica Leggera, guidata dal presidente Alfio Giomi, ha doverosamente organizzato presso il Centro di Operazione Olimpica Bruno Zalo di Formia per festeggiare Edio Attoz e Giuseppe Gentile, i due azzurri che alle Olimpiadi di Città del Messico del 68 il 17 ottobre di 50 anni fa conquistarono una madaglia di bronzo rispettivamente sui 110 metri ostacoli e nel salto tribolo. Per il Valdostano Toz e il Romano Gentile è stato un nostalgico ritorno in quella scuola nazionale di Atletica Leggera che Bruno Zauli proposa per forgiare giovani italiani e farli diventare atleti di alto livello internazionale. Eddi e Peppe ne sono una vera testimonianza. Nella prima metà degli anni 60 furono catapultati nel college diretto da Elio Buldrini, seguirono gli studi presso liceo classico Vitruvo Puglione e nel contempo si allenavano con le metodologie di allenamento che proponevano Alessandro Calvesi per gli ostacoli e Gigi Rosati per i salti. Io ho vissuto qui dal 63 al 69 e poi di nuovo dall'88 al 95 ho solo non belli, bellissimi ricordi. Sono anche cittadino onorario di Formia. Se l'atletica vuole continuare a essere competitiva, l'atletica italiana deve tornare qui ad allenarsi. Deve tornare a casa sua, che è Formia. Formia sta nei miei ricordi e anche nel mio presente naturalmente, ma la maggior parte degli allenamenti che io ho fatto prima del 68 nascevano qua. La cerimonia si è conclusa con la piantumazione di due alberi d'olivo che nascono da una stessa radice, proprio come i due azzurri che partirono dal centro di Formia. Il loro gesto è stato sottolineato anche da uno dei giornalisti italiani più preparati, anche lui, Marco Franzelli, è nato professoramente a Formia. Vogliamo ricordare anche, su iniziativa della scuola, con due querce che nascono da una stessa radice e che sono qui all'interno della scuola. Quella radice simboleggia la scuola stessa, che ha dato quei due alberi, ha dato tanti altri alberi. Sara Simeoni, Pietro Mennea. Grazie. Grazie.